Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News, esatto. Quando vi piace davvero tantissimo un filato, ci chiedete spesso delle versioni nuove che però possano mantenere le stesse caratteristiche di quel filato. Ebbene, quest'oggi parliamo del Justin Baby. Tutte conosciamo, adoriamo e amiamo profondamente il Justin Baby, la sua qualità e le sue innumerevoli caratteristiche, di cui parleremo tra poco. Già presente in tinta unita, nella variante Prim, ma adesso anche nella variante sfumata, con delle delicatissime sfumature degrade a tratto lungo. Analizziamo quindi nel dettaglio il Justin Baby sfumato. E vediamola allora quest'altra variante del Justin Baby. Il nostro gomitolo 100% Merinos Extra Fine irrestringibile, che già solo questo, insomma, fa presagire qualcosa davvero di unico. Filatura a mille fili, perfetto quindi per tantissime diverse tipologie di creazioni che vedremo in seguito, che si presenta così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 145 metri. Consigliabili i ferri o 3, 3,5 oppure l'uncinetto 3. Veniamo adesso a quelli che sono i consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Parliamo comunque di una creazione delicata, ma comunque da poter poi durare nel tempo ed essere anche pratica, cosa che ovviamente Tessilon non dimentica mai. È possibile lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 30 gradi. Sconsigliamo di utilizzare l'asciugatrice, ma piuttosto consigliamo di riporre la vostra creazione in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessive. È consigliabile l'utilizzo del ferro da stiro, però con una temperatura che non superi i 110 gradi e sempre apponendo un tessuto nella parte superiore in modo tale da proteggere comunque il vostro lavoro. Non è possibile candeggiare ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta il tetra cloretilene. Ma vediamo adesso quelle che sono le varianti di colore del nostro Justin Baby sfumato, non ovviamente da soli, ma accompagnati dai nostri telini. Questa variante che abbiamo visionato finora è la variante Laguna, dove vediamo ovviamente un bel verde smeraldo che tende dal più chiaro al più scuro. Questa invece è la variante Crema, dove vediamo ovviamente un bel beige dal più scuro al più chiaro. Questa invece è la variante Orange, questo bell'arancione davvero molto molto estivo dal più chiaro ovviamente al più scuro. Questa invece è la variante Lilla, dove vediamo questo viola un po' più scuro che poi sfoce verso questo delicatissimo Lilla. Questa invece è la variante Terra, dove vediamo ovviamente un ben definito marrone sfociare poi verso un delicato beige. Questa invece tendente un po' più al grigio è la variante Nuvola. Questa invece di un bel blu molto molto intenso è la variante ovviamente Oceano. E adesso rimaniamo sempre in tema blu, questa volta con la variante Cielo, nel quale ci sono ovviamente tutte le varie sfumature di blu, intervallate però da queste piccole onde bianche. E concludiamo invece con una bella luminosità, vale a dire, il Justin Baby sfumato sole. I telini ovviamente non potevano mancare e ci servono davvero per capire la bellezza anche di questo sfilato. Le sfumature come avete visto sono davvero molto delicate, ma che poi durante la creazione insomma saranno visibili e riusciranno ad accompagnare la vostra creazione, avvolgendovi in una profonda morbidezza. Ebbene sì, perché il Justin Baby è un 100% Lana Merinos Extra Fine Irrestringibili. Ma rivediamo un attimo tutte le caratteristiche che ha questo meraviglioso filato. Certificazione Mulesing Free, peso garantito, trattamento super wash, quindi davvero la praticità che tutte chiediamo quando realizziamo una creazione. Irrestringibile, torsione corallina in modo tale che le fibre siano tutte perfettamente incassolate tra loro e non vi diano il minimo fastidio. Certificato Ecotex, naturalmente antibatterica e ovviamente 100% made in Italy, quindi garanzia di qualità che Tessiland cerca ormai di riproporre in qualsiasi filato presente nel nostro catalogo. Per cosa si può utilizzare questo Justin Baby sfumato? Ma per tantissime cose. Per i bambini ovviamente è perfetto, proprio per tutte le caratteristiche che abbiamo già citato precedentemente. E quindi ben vengano copertine, abbigliamento, tutine, cappellini, scarpine, di tutto e di più. Ma anche per noi adulti, perché adoriamo essere avvolti dal calore e dalla morbidezza e per noi che poi dobbiamo lavare tutte queste creazioni, grazie al trattamento super wash, davvero possiamo farlo in tutta tranquillità e praticità. Insomma, un filato dal tocco in più, un filato che non può mancare nel vostro angolo creativo Tessiland. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e mi raccomando perché ce ne saranno delle belle. Iscrivetevi al nostro canale YouTube ed attivate la campanella in modo tale da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, le nostre edizioni straordinarie e TG di ogni genere e noi ci vediamo al prossimo articolo o alla prossima novità. Ciao! Ciao!